Da oggi anche la Valle d'Aosta ha la sua panchina rossa. La panchina rossa è un simbolo, un simbolo che deve tenere alta l'attenzione sulla violenza di genere, sui femminicidi e sui figlicidi. È una speranza per tutte le donne che vivono la violenza domestica ogni giorno. Questa panchina rossa è un progetto degli stati generali delle donne, è arrivato anche qui ad Aosta, è prima di Aosta in tante altre città metropolitane ma anche in tantissimi comuni d'Italia e vuole sensibilizzare tutte le persone che vedono questa panchina rossa e devono sapere che questo è un problema enorme e che bisogna affrontarlo. Grazie